L'organizzazione di questa politica che impedisce poi a questi ragazzi di andare a fare esperienze preziose magari all'estero, non troppo lontano. Ma poi ci sono ragioni che vengono dallo sport. Eh no, questo penalizza molto questi atleti. La mia vita è di recuperare, però è calma che può riaprirla e ci riesce per la fafera di Ribi Yon-Gwa. Prince ci regala una finale incandescente, incredibile. Partita che era chiusa, un regalo da parte del portiere.